direttamente da luvernada 2014 siamo insieme a nux vomiche mascarimiri benvenuti siamo contenti stare qua con voi a luvernade qui in borgo è una bella festa e sia una bella festa però cosa ci fate voi due voi tre insieme questo xavier che sono pifano piffero le fifra e siamo con mascarimiri anche perché luvernade è un punto di incontro per noi nissardi è sempre buono venire qua incontrare genti allora noi facciamo siamo venuti qua a luvernade personale e è l'occasione di si incontrare con claudio di mascarimiri perché noi abbiamo un bello progetto in preparazione che si chiama balu baletti vuoi dirci qualcosa anche tu claudio va bene allora sì grazie allora innanzitutto ovviamente quando luiz pastorelli e con x vomica la banda si unisce un'amicizia ormai più di decennale no ricordo tante feste anche popolari fatte al suo quartiere san rocco a nizza e luballu baletti una riflessione anche politica su quello che sta succedendo nelle nostre terre luballu baletti vuole parlare soprattutto di come oggi si può fare musica contemporanea rimanendo con i ritmi della tradizione io la la mia riflessione è fatta sempre con lux vomica ma anche con tanti amici marsigliesi uno di toulouse perché i gruppi che fanno oggi baletti cioè l'uraga baletti no che c'è questa filo nuova filosofia morso molto occitana non usano il ritmo della farandula della bourreia del rigodon c'è ritmi tradizionali mascarimiri quando fa una base per metterla poi per fare musica usa il tempo della pizzica o della tamuriato delle tarantelle calabresi quindi ritmi locali questa cosa che ho notato è che nei gruppi occitani da massiglia son sistema a lux vomica a mauresca a mauresca no fra gas d'ab ma anche tantissimi altri gruppi non usano i ritmi locali cioè ritmi da ballo locali e con la sfida che stiamo lanciando con pastorelli gli amici di lux vomica è cercare di fare un balletti popolare con i ritmi di oggi però ovviamente suonati con la nostra coscienza odierna quindi un sound system di basi e di canti tradizionali per far ballare la gente però sui ritmi locali questo è il nostro pensiero forse per il salento un ritmo locale è più facile da individuare ma per nizza per marsiglia che sono città che hanno subito delle contaminazioni ormai da un secolo si può ancora parlare di ritmi tradizionali magari lo mando piuttosto a voi per nisso non può ancora parlare di musica tradizionale oppure lo panorama musicale denis ormai le contamina da da un baron d'influenza da 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 un tradizionali può essere un'ispirazione un'ispirazione per per fare creazione nel mondo di oggi ora è anche una una finestra che ne pensi tu possiamo parlare un po della faranduola perché abbiamo dargli molto tradizionale che magari hanno influenze delle curente delle valle occitane anche però abbiamo questo ritmi ternari che sono molti molti tradizionali che che fanno ballare gente nelle montagne della del piemonte francese voglio dire e tutto tutto è simbolo capisci perché noi siamo a una frontiera che non esiste mai ma non nessuno si regala dell'altra parte questa frontiera regalano tutta a parigi a marcia e allora per noi fare questo progetto con mascarimerie è un'occasione di si reposizionare in questo spazio culturale di mediterranea e per si restituare in questo ritmo perché noi abbiamo un 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 ritmo e questo questa cosa unifica tutto questo arco mediterraneo e anche per noi aiuta a si situare situare in un spazio culturale dove siamo è una sorta di ispirazione capisci? e facciamo reggae facciamo tutto questo e questo è una una via a esplorare una via di per incontrare alti tradizioni anche la tradizione salentino è una una via per viaggiare e incontrare il mondo ora a proposito di viaggi vi chiedo solo la settimana scorsa insieme all'udalfina siete stati i protagonisti di un'iniziativa per salvaguardare la linea Cuneo Nizza che cosa rappresenta questa linea per voi e come come si è svolta questa iniziativa se volete raccontarlo ai nostri ascoltatori? per io è una lunga tradizioni di scambiare come la gente dei valli occitani della montagna dove vivi dove vivi l'ambito io e era una tradizioni di scambiare che veniva da Cuneo e da Valadas e nel villaggio dove vivi io c'era un mercato transalpino dove si scambiava di gran carretù e che fai un lu viaggio di Cuneo per un anno dell'altra costa e di smontare su dei su dei mulli, su dei ase e buon, c'è una lunga tradizione di scambi e anche questa parte delle Alpi anche io penso che è importante avere quel link tra Nizza e l'Ivalade perché culturalmente abbiamo bisogno di quel link perché noi a Nizza abbiamo abbiamo bisogno di come si può vivere, capisci? di una maniera... di una maniera umana, voilà, e di una maniera umana e... quando veniamo qui, riscontriamo qui. Allora noi abbiamo bisogno di scambi per andare nel Salento, per venire qui per avere tutto ciò, tutto ciò che non abbiamo bisogno che non abbiamo bisogno di macchina e che potremmo vivere un po' più bene senza pensare solamente che non abbiamo bisogno di raggiungere che non abbiamo bisogno di raggiungere che non abbiamo bisogno di raggiungere di una maniera umana e che non abbiamo bisogno di e non abbiamo bisogno di parlare Nizza e a Nizza, non abbiamo bisogno di parlare perché non abbiamo bisogno di parlare Nizza perché non abbiamo bisogno di parlare Nizza allora cosa mi diceva, che mi servei parlare Nizza parlare Nizza mi servei già a riscontrare la tradizione, a aver una riflessione sul mondo a aver venuto qui, a imparare a mangiare più bene, a parlare amici, che aveva una relazione con i giudici ma i giudici che a Nizza non è un problema per farandù una relazione con i giudici con i giudici e il ritmo, il ritmo della vita è il fine della farandù allora come vedete il ritmo c'è nella tradizione ti rispondo alla tua domanda secondo me è questa la nostra riflessione come mascarimerie noi abbiamo notato ormai dopo 15 anni che veniamo in Occitania a fare musica con gli Occitani che c'è un ritmo tradizionale, la bourrée per esempio per me la bourrée è un ritmo fantastico specialmente la bourrée è tre tempo nel progetto nuovo che stiamo montando Lubà e Lubaletti lavoreremo soprattutto su questi ritmi passeremo dal ritmo della farandula, del rigodon che è più delle loro parti ma io voglio toccare anche la bourrée per esempio anche bourrée a due tempi o a tre tempi è un lavoro lungo perché non sarà soltanto un lavoro di live ma vogliamo fare un disco insieme vogliamo fare un percorso insieme ovviamente partiamo con questo live che sarà la prima sarà fatto al Fogara Festival che è un grosso festival sud Italia, anzi d'inverno è il più grosso festival d'Italia e quindi sarà anche lanciato in una maniera pure molto forte diciamo l'ultima cosa è che mascarimerie vuole investire su questa cosa speriamo che ci mettiamo l'energia Arrà! Grazie! 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 Grazie!